Benvenuti alla nostra rubrica Leggere Liberi. Esisterà mai il libro perfetto? Il libro il cui solo titolo potrà indurre alla lettura anche il più riottoso e recalcitrante degli adolescenti, il cui solo titolo potrà diffondere il piacere della lettura anche tra i più renitenti. Sì, esiste. Domani niente scuola di Andrea Baiani. Domani niente scuola. Il libro perfetto, il titolo perfetto. Lasciamo perdere un po', mettiamo da parte gli scheri e vediamo un po' di che si tratta. Nel 2008 Andrea Baiani, allora trentenne, decide di saperne di più sull'universo misterioso degli adolescenti. Cosa fa? Chiede il permesso a tre presidi di tre scuole diverse, di Torino, di Firenze e di Palermo, di partecipare da esterno ai viaggi di istruzione classici, ai viaggi di istruzione di quinto anno e si imbarca in questa avventura. Ne nasce un diario esilarante, ma al tempo stesso profondo, documentato, sul mondo dei ragazzi diciottenni. Qualcuno potrebbe dire ma il 2008 non è forse troppo lontano per capire i giovani di oggi? No, no, no. Anzi, è proprio questa la forza del libro, perché si potrebbe avviare in classe un dibattito, ad esempio, su cosa è cambiato da dieci anni a questa parte nei giovani d'oggi, per esempio sul tema del rapporto giovani-politica. Ascoltate questo passaggio. Mi sta parlando delle elezioni, o meglio, delle prime elezioni della sua vita, visto che è da poco diventato maggiorenne. Per la prima volta, immagino, sarà entrato in un seggio elettorale, avrà esibito il suo documento, avrà preso in mano una scheda elettorale. Mi chiedo, guardandolo, se ci sarà andato con gli amici oppure con la famiglia. Così glielo chiedo che effetto gli ha fatto votare per la prima volta nella vita. Lui mi guarda alzando le sopracciglia, poi guardando da un'altra parte mi dice, non ho votato. Poi aggiunge, tanto sono tutti dei ladri. Mi è venuto da pensare che un diciottenne che alla sua prima elezione rinuncia a votare, gli abbiamo rovinato alla festa di compleanno. Quindi vedete un po' anche solo su questo tema, ma anche su un altro tema importante, cioè sulla frattura che c'è tra gli identikit che fanno i media dei giovani d'oggi e la realtà. Quindi su quanti temi si possa lavorare con questo libro? Che vi consiglio caldamente. E per concludere però direi attenzione perché quando si tratterà di tornare in classe e per fortuna potremo tornare a fare i nostri viaggi di istruzione, oggi non è possibile farli, attenzione perché ci ricorda Andrea Baiani che il vero obiettivo dei viaggi di istruzione non è la città d'arte, non sono i musei, ma sono le camere d'albergo. E con questa nota divertente vi saluto e vi raccomando veniteci a trovare sempre sul nostro sito e sui nostri canali social. Grazie. 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 Grazie.